Ok, aspetta che vado vicino, qui si vede tutto, ok, ok, for let's, for let's is, 11 penso, yes, 11, vai, ok, go, let's go, there's no wind, there wind, ok, stabilizes, very good, ok, ecco, è abbastanza buono, ok, si vede la radio? si, riesce a tenere a fuoco il modello? si, dovrebbe avere una macchina che riprende verticale, così, ha più spazio, adesso questo qui si vede rispetto alla nuvola lo spostamento, ed è poco, si, si, infatti, rispetto alla nuvola che c'è su è fermo, per vedere la radio? arrivo eh, perchè se per vedere la radio devo mettere molto lontano, si, si, no, no, è fermo, è fermo lui, vabbè, stabile? e dovrebbe usare tutta, eh, non sono in blocco GPS eh, guarda, eh, si, si, vedete? prendiamo la rabbit, ok, disarmata, perfetto, chiudo ok, disarmata, grazie a voi